Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Scopriamo subito in apertura quali saranno i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Urbanistica, inserite in legge le specifiche chieste dal Ministero. Immobili confiscati alla criminalità organizzata, approvata all'unanimità una proposta di legge per l'assegnazione alle vittime di mafia. Al via da chiostro a chiostro, al centro le eccellenze dell'enogastronomia paratese. Lo scorso aprile il Consiglio regionale della Toscana aveva approvato la legge che semplifica l'iter burocratico per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per i progetti legati al PNRR e al PNC, il Piano Nazionale degli Investimenti Complementari. Nel corso dell'ultima seduta d'aula sono state inserite in legge le specifiche chieste dal Ministero rese necessarie per effetto di una serie di contestazioni avanzate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Qualcuno aveva gridato allo scandalo, si vuole modificare l'assetto urbanistico esistente, niente di tutto questo, si vuole adeguare alle esigenze dei tempi e alle semplificazioni che sempre più purtroppo la nostra burocrazia ci impone. Ecco che dopo aver approvato la legge in Consiglio, io un giorno ricevo la telefonata da un'alta funzionaria della Presidenza del Consiglio dicendo guardi dottor Gianni che la vostra legge c'è da parte di personale ministeriale la richiesta che venga ad essere oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale proprio perché modifica l'assetto urbanistico esistente. In realtà in un primo momento mi sono arrabbiato dicendo ma voi governo volete che si presentano progetti del PNR presto e bene e poi non ci aiutate nemmeno a poterlo fare. In questo caso ecco che c'è stata con Roma un'interlocuzione, un pomeriggio di rapporti, di relazioni, poi siamo arrivati a una sorta di intesa ovvero il fatto che alcuni aspetti che potevano aver preoccupato noi li riportiamo in Consiglio, li approviamo e quindi la legge si adatta a una modalità tale che non viene più ad essere oggetto di impugnativa da parte del Governo. Sono state ore convulse negli scorsi giorni in cui interloquento insieme al Segretario Generale, agli uffici del Consiglio regionale con il Ministero del MIBACT, avevo posto il tema della necessità di non impugnare una legge che serviva sostanzialmente ai comuni per poter realizzare le opere del PNR di ripresa e resilienza più velocemente nel rispetto delle norme nazionali e quello che abbiamo fatto e la leale collaborazione ha portato poi alla modifica di questa norma che oggi è ancora più chiara e permetterà ai comuni di poter dare risposte più rapide ai cittadini e utilizzo migliore dei fondi del PNRR. Secondo me questa è buona politica e sono contento che l'Aula lo abbia votato praticamente all'unanimità con il gruppo di Fratelli d'Italia che non ha partecipato al voto. È stata modificata la legge perché con il Ministero, dopo un colloquio che c'è stato con gli uffici legali del Consiglio regionale, si è ritenuto di evitare l'impugnativa da parte del Governo e quindi di portare queste modifiche che per noi erano abbastanza ovvie, però il Ministero ha chiesto che specificassimo che per tutti i lavori pubblici o privati che insistessero su terreni o territorio che erano vincolati dal codice dei beni culturali, quindi insomma beni vincolati, ci fosse il parere della sorrintendenza. Per noi era cosa abbastanza ovvia, l'avevamo scritto nel preambolo della legge che comunque il PIT è il livello più alto da rispettare, d'altro canto la Regione Toscana è stata la prima Regione a avere il piano paesaggistico quindi non è che possiamo essere noi a dire che non si rispettano le regole, però il Ministero ha chiesto di poter specificare questa norma, per noi non è stato difficoltoso anche perché non allunga i tempi. La paura che avevamo era questo, invece il parere della sovrintendenza quindi del rappresentante del Ministero dei beni culturali è all'interno della conferenza dei servizi, quindi per noi si rispetta la legge, si rispetta la velocizzazione, si rispetta il nostro territorio. Il Consiglio ha approvato gli emendamenti con 27 voti favorevoli e il voto contrario di Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto. Abbiamo assistito a un'inedita trattativa o meglio al racconto di una trattativa che c'è stata nei giorni scorsi fra il Governo e la Regione Toscana sulla base della legge per la semplificazione dell'iter che dovrebbe portare ad approvare i progetti legati al finanziamento del PNRR e dei fondi complementari. Di fatto il Ministero della Cultura ha rilevato una violazione delle garanzie costituzionali a favore dello Stato in materia di tutela del paesaggio perché le norme introdotte dalla Regione rischiavano di portare alla modifica del PIT con valenza paesaggistica, cioè il piano di indirizzo territoriale, senza appunto il coinvolgimento dei rappresentanti del Ministero sul territorio. Da parte del PD è stato detto no, si tratta di un errore interpretativo. Sta di fatto che la legge viene oggi modificata in due punti concordati con il Ministero che raccolgono in parte anche delle osservazioni e delle critiche che noi avevamo fatto al momento del varo della legge. Per noi viene migliorata ma non vengono migliorate le ulteriori forzature che invece rimangono nei confronti dei comuni e delle province perché di fatto con la motivazione della disponibilità dei soldi si bypassa la politica locale per realizzare opere che speriamo siano davvero utili per il territorio ma che certamente avranno un impatto sul territorio stesso che forse i consiglieri comunali e i sindaci sono più in grado di altri di valutare. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata potranno essere assegnati alle vittime di mafia per uso abitativo. È quanto prevede una proposta di legge al Parlamento presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha presentato, ha deciso di approvare quindi di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di cinque anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia di cui è l'articolo 416 bis del codice penale ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio oppure a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone. È una proposta di legge al Parlamento che va a superare i limiti del codice antimafia perché il codice antimafia ha detto dei limiti per la destinazione d'uso che questa proposta di legge va a superare. Per questo noi siamo d'accordo in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo diciamo è forte e chiaro. Anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate e compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario e economico. Quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge che hanno una loro ragionevolezza, un loro significato. Abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento, tra Roma e le regioni. Il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati dalla criminalità organizzata anche quello di trasformare questi immobili in alloggi per chi della criminalità organizzata è stata vittima. Perché sembra quasi assurdo, sembra un paradosso, ma oggi tra le varie destinazioni che potremmo dare agli immobili confiscati dalla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Sappiamo bene purtroppo che chi ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, di dissociarsi dalla criminalità organizzata, di non sottostare al racket della criminalità organizzata sappiamo che una delle punizioni a cui vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione e quindi spesso queste persone che hanno il coraggio di ribellarsi alla mafia vedono la propria casa ridotta a un cumulo di macerie o di cenere. Ebbene ci sembra assurdo che queste persone non possano utilizzare i beni confiscati proprio dalla criminalità organizzata per sopperire a questa loro mancanza. Speriamo che il Parlamento recipisca questa proposta di legge, anzi approfittiamo anche delle vostre telecamere per ribadire un altro concetto, un invito a tutti i gruppi politici, noi lo faremo con il nostro, ma a tutti i gruppi politici a sollecitare i nostri parlamentari affinché prima della fine della legislatura calendarizzino questa proposta di legge e la trasformino finalmente in legge nazionale. Sarà possibile gustare le prelibatezze enogastronomiche di chef e maestri pasticceri pratesi nelle due serate dell'iniziativa da chiostro a chiostro in programma lunedì 4 e martedì 5 luglio a Prato. L'evento si svolgerà nella splendida cornice del chiostro di San Domenico e in quella del chiostro del Duomo. Sono due chiostri delle chiese storici di Prato, l'idea è quella di valorizzare i ristoratori e i pasticceri della provincia di Prato, quindi avremo la possibilità di degustare nel chiostro di San Domenico i ristoratori, i piatti che appunto i ristoratori presenteranno in quell'occasione e devo dire che insomma si sono dati veramente da fare i nostri ristoratori della provincia di Prato. Alcuni presenteranno, pensate a alcune ricette che hanno proprio una cultura e risalgono a una storia culinaria e culturale della provincia di Prato. Mentre nel chiostro del Cattedrale Santo Stefano avremo la possibilità di incontrare i quattro pasticceri che presenteranno per la prima volta quattro nuovi dolci, quindi con quattro nomi che proprio hanno dato nel battezzarli, nel crearli e quindi è un modo di vivere un centro storico in maniera diversa, quindi in tutta relax passeggiare per Prato, per il centro storico e avere la possibilità di vedere da varie angolazioni il centro storico di Prato che devo dire è bellissimo. È una iniziativa che abbiamo presentato a Vetrina Toscana, quindi con il contributo appunto di Vetrina Toscana, Regione Toscana e Union Camere e Camera di Commercio Prato e Pistoia e anche il contributo del Comune di Prato. Mi verrebbe di dire tante le strade che portano a Prato perché c'è la possibilità con questa manifestazione di accendere un riflettore sulla bellezza e sulle bontà della città di Prato, quindi una cittadina, una città e una provincia che è vicino ovviamente a Firenze ma che può essere la scoperta uno scrigno di tante bellezze e di tanti sapori. Io devo dare merito e un grande ringraziamento a Confesercente e al suo Presidente per aver pensato, ideato questo percorso, questi itinerari, così come a tutti coloro che hanno scelto di collaborare e di essere presenti a queste iniziative. Si scopre non solo il cibo e i nostri sapori ma si scoprono anche i chiostri, quindi si scopre anche la bellezza, la cultura, l'architettura di Prato e lo facciamo in un periodo che è stato un periodo difficile per tutti loro, per i ristoratori e per coloro che si sono misurati e che hanno resistito in questo periodo particolarmente difficile. La regione toscana ha cercato di dare una mano in quel periodo ma cerca di farlo anche adesso dove si parla di ripartenza e per me è un orgoglio non solo dal Presidente di Commissione ma anche da rappresentante di quel territorio poter essere qui a presentare e a dare un valore a un merito e a una sapienza tutta pratese che penso sia sicuramente un itinerario da inserire nelle tappe turistiche, culturali ed enogastronomiche di questa regione ma anche di tutta Italia. Vetrina Toscana l'abbiamo rilanciata lo scorso anno e sta affiancando tutte queste iniziative. Io li ringrazio perché sono oltre 150 quindi siamo davvero in una condizione di esplosione di questa adesione. Mi pare evidente che attorno all'enogastronomia si stia ritrovando un processo identitario, una comunità economica che coltiva la speranza dopo un grande periodo di difficoltà e abbraccia un progetto collettivo per presentarsi al meglio al mondo. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito. Cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.